Il quarto appuntamento del Maurizio Costanzo Show sarà di nuovo all'insegna della famiglia Rodriguez. Questa volta ci saranno i tre fratelli, Belen, Cecilia e Geremias, insieme sul palco del celebre Toll Show. Dopo le varie eliminazioni dalla casa del grande fratello Vip, la famiglia si è riunita ed è molto presente in tv. Ne sono ospitata da Barbara D'Urzo, come ribadito più volte, ma sia il Maurizio Costanzo Show, dove Belen e Geremias sono stati già la settimana scorsa. Questa volta però ci sarà anche Cecilia, pronta a parlare della fine della storia con Francesco Monte e del nuovo amore per Ignazio Moser.